Arriva in parrocchia il nuovo giovane prete e ora il prete quello più anziano lo prende in disparte, gli dà un libricino e gli dice quando la gente verrà da te in confessione, per ogni peccato su questo libricino troverai la giusta penitenza. Ma il giorno dopo in confessionale si presenta una donna e gli dice prete prete ho peccato, ho tradito mio marito col postino, abbiamo sperimentato la posizione della pecora. E questo prende sto libricino e comincia a sfogliare, pecora, 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 pecorina, dice figliola vai a casa e recita 10 Ave Maria. Il giorno dopo questa ritorna e dice prete prete ho peccato di nuovo, ho tradito mio marito ma stavolta col postino e col giardiniere. E questo prende il libricino e comincia a sfogliare, orge, 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 dice figliola vai a casa e recita 10 Ave Maria e 10 Padre Nostro. Il giorno dopo questa torna un'altra volta, prete prete ho peccato, ancora tu dice, che hai combinato stavolta? Dice ho tradito mio marito con l'idraulico e gli ho fatto un pompino. Figliola benedetta, prende sto famoso libricino e comincia a sfogliare, po 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 pompino 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 pompino, niente. Ricomincia a sfogliare, po 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 pompino pompino pompino, niente. Allora apre una tendina del confessionale, chiama il prete, quello più anziano, gli fa prete, prete, a sta donna per un pompino che gli devo dare? Dice se hai fatto bene 20 euro.